Decisamente, non come ci aspettavamo, però è andata molto bene, considerando che era la mia prima gara europea e facevo parte della categoria più giovane in quella gara, però tutto sommato diciamo che è andata bene. Ti sei sentito più pronto per l'europeo o per gli assoluti? Diciamo più per gli assoluti, perché sai, comunque andare a tirare con gli assoluti ti dà un senso di spensieratezza, perché comunque sai che il livello è molto alto, quindi sai già che non potrai fare più di tanto e quindi tiri con molta più spensieratezza e con tutto quello che sai fare. Ti senti anche un po' più esperto dopo queste due giorni londinese, anche per quanto riguarda quello che sarà il campionato 2019? Sicuramente, di certo è stata una bella esperienza che mi ha fatto maturare e mi sto preparando duramente per questo nuovo anno. L'obiettivo adesso quale sarà? L'obiettivo è come sempre quello di fare un buon campionato e magari di qualificarci per qualche altra gara europea. E poi restano le finali nazionali, l'anno scorso hai un po' steccato, quest'anno di sicuro ti dovrai rifare, perché comunque adesso puoi partire la nazionale. Sì, indubbiamente avremo molte gare, la prima che sarà a Bastia Umbria e poi anche altre gare internazionali come quella di Milano.